Musica Benvenuti alla rassegna stampa del mattino alle 7.30 in diretta tutti i giorni da lunedì al sabato su Fano TV canale 17 del digitale terrestre in tutta la regione Marche C'è la rassegna stampa che riguarda la provincia di Piesa Urbino e ogni tanto qualche pagina qua e là dalla regione con le notizie più importanti come vedremo tra poco da Fabriano Allora subito il santo del giorno con la grafica che ci ricorda che oggi è Santa Teresa Benedetta della Croce Il sole è sorto alle 6.05 e tramonterà 22 minuti dopo le 8 di questa sera Allora il cielo sarà arriva la pioggia intanto ve lo anticipo non domani non oggi però intanto con ordine Oggi pioverà nel sud della regione Marche limitatamente alle zone interne e soprattutto nel pomeriggio Per il resto avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento Attenzione ai venti moderati lungo la costa e al mare che sarà mosso in serata sul litorale pesarese Domani invece giovedì 10 agosto la sera delle stelle dovrebbe essere 10 agosto San Lorenzo Quindi teoricamente molti dovrebbero essere con il naso all'insù Soprattutto i più romantici quelli che vogliono esprimere desideri puntando sulle stelle Ebbene domani insomma si farà un po' fatica Perché? Perché il cielo sarà parzialmente nuvoloso per il transito di velature e per attività cumuliforme Pomeridiane nelle zone interne Avremo anche locali rovesci nel pomeriggio però soprattutto nelle zone dell'entroterra Vedete nell'Urbinate, nel Monte Feltro così come giù nell'Ascolano I venti saranno moderati lungo la costa, il mare sarà poco mosso, le temperature più o meno saranno simili a quelle di oggi Oh ecco il tempo che peggiora, nella giornata di venerdì infatti avremo precipitazioni e pioggia sparse A prevalente carattere di rovescio temporale Più probabili nella seconda parte della giornata Quindi nel pomeriggio di venerdì e lungo la fascia costiera centro-settentrionale Le temperature sono in diminuzione, i venti moderati da nord E quindi il mare sarà poco mosso Il tempo sarà instabile anche nella prima parte della giornata di sabato Il Corriere Adriatico L'apertura di oggi è per il San Bartolo e per il Ministro dell'Ambiente Che ha promesso a Matteo Ricci, al Sindaco di Pesaro, 6 milioni di euro Parliamo chiaramente dell'incendio che ha coinvolto la Falesia 150 ettri più o meno di Falesia 6 milioni di euro, dicevo, per far rinascere il Colle San Bartolo L'area dell'omonimo parco naturale in parte distrutta dal furioso incendio Che la settimana scorsa ha devastato la zona di Castel di Mezzo e Fiorenzola di Focara Parte dei fondi li metterà il Ministero dell'Ambiente Parte la Regione Marche Chissà se hanno parlato anche delle Cesane Nessuno ha fatto ceno alle Cesane Là se ne sono andati il doppio rispetto a Fiorenzola di Focara e Castel di Mezzo Il doppio rispetto alla Falesia che è splendida certamente Così come è splendida anche tutto il parco delle Cesane Il bosco delle Cesane Dunque Blizzi invece al parco e in stazione a Pesaro Le cacce agli spacciatori sono stati fermati e bloccati Portati via anche per accertamenti alcuni stranieri C'è stata questa operazione delle forze dell'ordine a Pesaro O per lo sport invece un richiamo in prima pagina Con gli abbonamenti popolari per il Fano Calcio Mentre stasera la Vis Pesaro si presenta ai tifosi Entriamo nelle pagine interne Perché sia il Carlino che il Corriere Adriatico Dedicano due pagine alla morte del bagnino eroe Cioè alla morte di Pierluigi Ricci Da tutti conosciuto come Bigio Fano ricorderà la passione e l'altruismo di questo figlio L'impegno per Bigio Ricci di consiglio comunale e sindaco Fiori sull'uscio di casa e lutto nelle concessioni balneari Parla il figlio che fa la guida turistica Giovanni Ricci dice Mio padre mi ha insegnato la libertà di vivere che è tutto Il sacrificio della vita per salvare tre turisti onorato Con un minuto di silenzio anche in Regione All'interno dell'Assemblea Legislativa delle Marche E poi sotto sulla pagina di Fano del Corriere Tutti indivisa da bagnino per l'ultimo saluto Il funerale si svolgerà sabato alle 10 del mattino Nella parrocchia Grammare di Dio a San Lazzaro Nella chiesa che a dicembre scorso Aveva dato l'ultimo saluto alla mamma del bagnino eroe L'altra pagina Divieti contro gli imprudenti Adesso si parla di questa bandiera rossa Che quando c'è è come insomma se non ci fosse Divieto certo ai bagnini si dia dunque un'autorità Dopo la tragedia di Ricci L'associazione Oasi chiede al governo nuove regole Cioè questa ondata di emozione e sdegno in tutta la città di Fano Per i rischi che corrono gli operatori balneari Ma già ieri sei, ieri Chi ha visto il telegiornale Occhio alla Notizia Abbiamo intervistato uno dei responsabili Che parlava appunto dell'importanza della bandiera rossa E molti avranno notato sullo sfondo i bambini Che facevano tranquillamente il bagno Nonostante la bandiera rossa E poi sull'altra pagina Andiamo avanti con la rassegna E con le pagine del Corriere Adriatico Dicevo da Fabriano c'è questa tragedia Questa notizia che è una tragedia Una bambina nasce prematura in casa E poi muore dopo poche ore all'ospedale Salesi I genitori sono indagati per un micidio colposo Il padre, non siamo mostri Abbiamo fatto il possibile La mamma era all'ottavo mese di gravidanza Ed era stata seguita da un ginecologo in Germania La tragedia di questa famiglia residente a Fabriano Lui quarantenne originario del Maceratese Lei tedesca di 30 anni Ora la procura ha aperto un'inchiesta I genitori sono indagati per un micidio colposo Un provvedimento tecnico Che consentirà loro di nominare un perito Per l'autopsia fissata per venerdì prossimo Dunque un atto dovuto appunto Per soprattutto consentire di nominare Un perito appunto per l'autopsia E capirne dunque le cause esatte Sui vaccini invece Questa è la pagina delle Marche sul Corriere Sui vaccini ci sono state delle contestazioni C'è stata tensione in consiglio regionale Passa la legge ma fuori è caos Un'infermiera è stata aggredita verbalmente Dai free vax Cioè da quelli che vorrebbero essere liberi Di decidere se vaccinare o meno i propri figli Movimento 5 Stelle e Lega hanno votato contro Fratelli d'Italia ha deciso invece di astenersi Andiamo a Pesero dove la politica si interroga Sui rapporti tra Ricci e il PD Ricci che si spende per l'unità del PD Ma è freddo con la regione Marche Il sindaco Urbagna dice Ceriscioli E Comi ho avanzato consigli sul sisma Ma non sono stati colti Fatta la fusione Siamo sulla pagina di Fano La fusione è quella di Aset Ora l'azienda procede a 7 nuove assunzioni I 5 Stelle attaccano Questa operazione doveva favorire sinergie di personale Dalla Valle del Cesano il premio Laurentino E siamo a San Lorenzo in campo Va a due giovani promettenti Domani riconoscimento a Davide Fiscaletti E Giacomo Rotatori E poi ci sarà spazio anche per altre 6 benemerenze In questa fotografia vedete il sindaco di San Lorenzo in campo Dell'Onti con i premiati invece dell'anno scorso Urbino Edifici agricoli da recuperare Ecco le possibilità e i vincoli Tutte le specifiche della variante urbanistica Che ha scatenato però reazioni e polemiche L'assessore Cioppi era sicura Non sarà possibile far nulla che sia in contrasto Con le norme sul paesaggio E poi a centropagine invece una fotografia del 118 Dell'elicottero Un ciclista è intervenuta per un ciclista Che è svenuto per il caldo ed è caduto Ed è stato a soccorso appunto dall'eliambulanza Fiumi in secca Pesce a rischio E colpa anche del trekking La siccità non molla Ma finiscono sotto accusa le escursioni fluviali Questa è la pagina di Fossombrone E la pagina di Urbino Poi da Senigallia invece nel mirino dei vandali Anche alberi e lampioni I punti luce del porto Sono stati presi a calci Scattano in sopralluoghi Spycam sotto controllo La pagina di Pesaro La prima pagina di Pesaro del resto del Carlino Invece è per la visita del ministro Galletti Il ministro dell'ambiente a Pesaro Lo vedete in questa fotografia con Matteo Ricci E con l'assessore regionale Il ministro Galletti a Florenzola Conferma finanziamenti per la messa in sicurezza dei borghi Faremo presto Ho fatto tanti bagni qui sotto E dunque ricorda anche un fatto personale Niente autopsie invece per il bagnino Ha ceduto un cuore generoso Racconta un collega Mi sono buttato in mare dietro di lui L'ho visto solo alla fine Quando era ormai senza vita I funerali si terranno come abbiamo già detto sabato mattina Per aspettare il figlio che vive all'estero E poi invece la fine di un'epoca Sempre in prima pagina sul Carlino Mobilieri Chiude lo storico circolo L'edificio sarà venduto Il circolo mobilieri Con ingresso riservato Emorragia di tessere Finisce dunque un'epoca Troppa siccità per il tartufo La stagione sarà da paura Questo nelle pagine interne E poi il concerto di Samuel Salta perché sono stati venduti a Pesaro Pochi biglietti Dunque c'è stato un altro forfè E niente da fare Allora vediamo queste due pagine Del resto del Carlino Con il dramma del mare E dunque il dramma di Di Bicio Niente autopsia abbiamo detto Di Bicio Niente autopsia abbiamo detto Il cuore ha ceduto I funerali sabato per aspettare il figlio Fiori davanti alla porta di casa Messaggi su Facebook Sulla sua generosità E poi si parla anche Del defibrillatore Che è stato utilizzato Qui c'è Chiara Borgoggelli La figlia del titolare Del camping Verde Luna Che appunto fa vedere Mostra il defibrillatore Che avrebbe voluto usare Per salvare Ricci Ma non è stato possibile Perché non c'era ormai Davvero purtroppo Più segno di vita E qui andiamo sull'altra pagina Vedete il titolo Abbiamo provato a defibrillare Ma non c'era più battito Sono corsa Sperando di poter fare qualcosa Bicio era lì E non lo dimenticherò mai Chiara racconta Quei terribili momenti A ripensarci Fa un effetto davvero bruttissimo Terribile E l'altra pagina Eccola Con la fotografia Il corpo senza vita Coperto da un lenzuolo bianco Il corpo senza vita del bagnino Sulla spiaggia di Torrette Dopo la fine dei tentativi Di rianimazione Il salvataggio collettivo Nel mare grosso Ma c'è chi ha donato la vita Per gli altri Corricci Anche altri bagnini di terra E anche il pompiere Un pompiere coraggioso Che è intervenuto Per cercare di salvarlo E poi l'altra pagina Quella di Fano Del resto del Carlino Dove si parla di Marina dei Cesari Che ancora cerca soldi Delegazione cinese Di Pershing In città Il Presidente della multinazionale In visita Nella sua fabbrica L'Assemblea dei Soci È stata rimandata Per la fine di settembre Poi c'è Vista la siccità In questi giorni Anche il rischio di incendi Forse la notte Delle lanterne salta Lo ha detto anche il Presidente Ieri Nel nostro telegiornale La sicurezza Prima di tutto Però insomma Abbiamo visto le previsioni del tempo Venerdì C'è anche la pioggia Di mezzo Quindi bisognerà vedere Se magari la sera Venerdì mattina piove La sera Dunque Questo terreno Sarà un po' meno Un po' meno secco E dunque Può darsi che arriverà Questo via libera Andiamo sull'altra pagina Del resto del Carlino Dove si parla invece Di Fiorella Mannoia Che si candida A sindaca Dei Paesi dei Baocchi Quest'anno Dice lei Non sono riuscita Ma spero Nella prossima edizione Ieri Vi abbiamo fatto vedere Anche un videomessaggio Ve lo faremo vedere Nel corso delle repliche Delle 11 E delle 13 e 30 Del telegiornale Il via Il 17 agosto La cantante Ha inviato un messaggio Di apprezzamento Appunto Facendo la promessa Di essere Protagonista Il prossimo anno Quest'anno invece Tocca a Silvestro Montanari Montanaro Scusate Che racconterà La storia di Thomas Un grande uomo ignorato Ed è vero Molto interessante Ieri ho visto Sempre nel telegiornale Queste fotografie Questi occhi Davvero belli Incredibili Di quest'uomo Che ha cercato Nel suo paese Di cambiare Di fare qualche cosa Sarà interessante Sentire e ascoltare Questa bella storia Che arriva dall'Africa Continuiamo l'opera di papà Ma invece Oggi il Carlino Torna su un'altra tragedia Che ha scosso Una comunità intera Quella di Colli al Metauro Calcinelli Tanto per capirci La tragedia Dei coniugi Fraticelli Loris Insieme alla moglie Adriana In questa fotografia Nel giorno delle nozze Ricorderete il 4 giugno Del 2017 Queste erano le nozze Ma poche settimane dopo C'è stata la tragedia La tragedia Di questi coniugi Di 73 anni lei Di 83 anni lui E quindi I figli I figli di Loris E Adriana A un mese dall'incidente Dice Continuiamo l'opera di papà Occupazione garantita Nella ditta Nella fabbrica Nell'azienda Fraticelli L'attività Dei salumi Dunque Proseguirà E qui c'è l'intervista E il racconto Di Sandro Franceschetti Che è appunto Il collega Del resto del Carlino Ok questa è la pagina Andiamo su quella Di Pian del Bruscolo Dove c'è la notizia Che Drudi Il presidente Della Camera di Commercio Di Peso Urbino Resterà in carica Per un altro anno ancora Non decade in attesa Dei nuovi organismi regionali Fermato il decreto Una situazione abbastanza complessa Per arrivare Alla ripartizione Delle cariche L'ultima pagina È quella di Urbino E invece Eccola qui L'Ateneo si ricorda Del convento dei Cappuccini Il CDA ha dato il via libera Infatti ad uno studio Per risanarlo E rivalorizzarlo Guardate quanto è bello Il comune lo riconsegnò Nel 1998 Da allora è andato lentamente In rovina E l'edificio è molto importante Anche dal punto di vista Storico E ora purtroppo Lentamente Piano piano Sta crollando Ok La rassegna stampa Finisce qui I giornali torneranno Domani mattina Alle 7.30 Come sempre in diretta Noi invece ci vediamo stasera Alle 20.30 Con il telegiornale Mi raccomando Come sempre Mandateci Inviateci Le vostre segnalazioni Collaborate con la nostra redazione Informateci Per informarvi Al meglio Grazie Grazie per averci seguito E buona giornata a tutti Grazie per averci seguito